La cantina Lilliu Sono Pietro Lilliu, titolare e socio della cantina Lilliu. Lavoriamo saramanna in piena marmilla e coltiviamo le nostre viti in questo territorio. Territorio vocato da sempre per la produzione di vino. La nostra caratteristica principale sta nel coltivare le viti con un'agricoltura sinergica. Alleviamo le viti in asciutto, quindi una grande concentrazione di sostanze. L'agricoltura sinergica implica la collaborazione con la natura. Invece di inventarci le cose cerchiamo di capire come funzionano in modo da non stravolgere la natura ma la rispettiamo in tutti i suoi delicati equilibri per avere il prodotto migliore che quello sarebbe un vino buono e sano, un vino che non faccia male alle persone ma faccia bene. Produciamo una Malvasia Dock, due rossi GT, un Cannonau Dock rosso e un Cannonau Dock vinificato in bianco. Siamo felici di partecipare a questo progetto. Innanzitutto incontrarsi con altre persone a livello internazionale può far nascere delle sinergie importanti. E poi soprattutto per giovani come noi che stanno scommettendo nella Sardegna, nella Marmilla in questo caso è molto importante perché ci può aprire le porte a dei finanziamenti o a delle possibilità che altrimenti ci sarebbero negate.